e lei mi raccontò la sua storia e chissà che cosa insomma significa l'uccio, significa fare la prostituta e lei è una di quelle ragazze che è stata portata dall'Argentina in Europa in un modo veramente cattivo e niente, quando la conobbi fortunatamente era uscita da questa storia però mi colpì talmente tanto che sonoci fuori questa canzone e niente, sono felice che adesso praticamente è diventata una mamma ha trovato una persona che le vuole bene e è riuscita fortunatamente a togliersi da questa schiavitù infatti il brano di prima parlava di schiavitù e anche questo brano parla di schiavitù in un altro modo e io credo che siano inammissibili che ad oggi giorno esistano ancora queste cose ognuno può fare quello che vuole insomma la cosa più bella per me è che comunque lei sia bene e niente oggi, scusate, è nata questa canzone per Caterin ti voglio proprio bene e i miei cerchi non importa che bisogno di me io non sono la tua donna lascia perdere con me e i miei cerchi le chiamate tardi non cerca un altro come me io che uso in casa e non voglio respirare caldo E mi manca il fiato in un corpo strano E mi manca il fiato in un corpo strano E mi manca il fiato in un corpo strano E mi manca il fiato in un corpo strano E tu vuoi amare che il fiato in un corpo strano Il tuo contatto con il fermo mi sfiora l'anima Il tuo tempo mi aiuta a vivere ma il mio corpo è un peore che Acqua per la nulla, acqua per la nulla, acqua per la nulla Il tuo tempo mi aiuta a vivere ma il mio corpo è un peore che È un peore che non è un peore che non è un peore che Mi aiuta a vivere ma il mio corpo è un peore che Mi aiuta a vivere ma il mio corpo è un peore che Mi aiuta a vivere ma il mio corpo è un peore che Mi aiuta a vivere ma il mio corpo è un peore che Il tuo tempo mi aiuta a vivere ma il mio corpo è un peore che Mi aiuta a vivere ma il mio corpo è un peore che Mi aiuta a vivere ma il mio corpo è un peore che Grazie.